Salve! Entrate? Venite a vedere questo bellissimo museo? Prego, venite! Castello dell'Arancia, Compagnia dell'Arancia. Chi nasce prima? Il castello, ovviamente. Beh, è ovvio che quando abbiamo fondato la compagnia cercavamo un nome e questo castello dà l'impressione di una cosa solida. Allora speravamo che la compagnia diventasse così solida come questo castello e in effetti così è stato perché ormai sono molti anni, più di 30 anni che la compagnia produce spettacoli. Naturalmente questo non è un museo come tutti gli altri, è un po' particolare, è un po' scenografico, diciamo. È qualcosa che resta, è qualcosa che resta del lavoro di tante persone, della passione di tante persone, quindi avere un museo dove ci sono tutti gli spettacoli che abbiamo fatto. Beh, è una cosa un po' di orgoglio, sono un po' orgoglioso di questo.